Ciao, ho qui tre gelati nel profilati. Ciao, ho qui tre gelati nel profilattico. Ciao, ho qui tre gelati nel profilattico. Ne vuoi uno? Tieni, te lo regalo. Ah no, scusa. Ti sto votando quello che ho messo in bocca. Non li mangio subito perché sono ancora duri. Ah no, se non so, se non so, se non so. ho deciso di mangiarmi un po' di sashimi pezzettino di salmone aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh jaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh jaaaaahhhhhhhh da, da, der eskebnuff fährt da eskebnuff wo is der? Oh, stasca! Oh, stasca! Oh, stasca! Pronto? Oh, stasca! Pronto? Ah! Der Hacknuppe als Enderknuppe! Parla! Gli madre, vergete nicht! Waffanculo! Ich werde doch fertig, mach. Ich werde doch fertig, mach! Ich werde doch fertig, mach! Fickatelo su per il culo! Ah, frisst das du urzun? Ich werde dich fertig machen! Ja! Waffanculo! Oh, frisst das du urzun? Vuoi una denuncia in sede penale? Guarda che... l'apparecchio registra, quindi vedi di non rompere il cazzo! Ma ora, scherzi, la vuoi sul serio una rinuncia? Guarda che è un fratello avvocato, stronzo! Vaffanculo! Telefono ancora che ti denuncio, porco Dio! Idiota! Hai capito? Il pregato faccola! Deficiente! Non rompe il cazzo o ti trovi una rinuncia interoperale! Caglione! Vaffanculo! Ciao, ho qui tre gelati nel profilattico.